ho applicato il redirect ma ora il sito di cartra non si vede più attenzione allora cartra o meglio aruba ha una funzione che è quella di gestione dns ma anche la funzione di redirect se applichi il redirect verso cartra non si vede più il sito per cui se tu applichi una funzione di redirect verso account.cartra.com ok non è la stessa cosa che gestire la comunicazione tramite dns perché il dns permette di visualizzare il sito specifico di cartra mentre il redirect fa vedere una urla non fa vedere un indirizzo diciamo di server per capirci per cui è importante che sia applicato il dns lo interrompi e svolgi tutta la pratica di gestione dns spero di aver risposto a questa domanda grazie a tutti